il vangelo di oggi aggiunge alla riflessione di ieri un altro tassello se ieri gesù ci parlava di una generazione sempre scontenta insoddisfatta oggi invece descrive con poche parole uomini che sono sempre in cerca di qualcosa di forte che possa scuoterli e dar loro la sensazione di vivere al massimo della vita anche il nostro contesto sociale ci bombarda di persone che diventano ricche con poco milionari gente famosa mentre dall'altra parte c'è crisi guerra e precarietà siamo in un'epoca dove tutto è possibile e raggiungibile con un click ma di fatto solo pochi realizzano i loro sogni il contrasto tra ipotetiche possibilità e una realtà che sembra anonima può generare un profondo senso di frustrazione siamo incapaci di provare piacere per ciò che abbiamo conquistato e siamo attenti invece a ciò che non abbiamo a ciò che all'altro questo perenne senso di mancanza si trasforma in delusione invidia e rabbia bloccando qualsiasi stimolo al cambiamento e alla crescita gesù invece ci ricorda che il cristiano non potrà mai trovare il senso della vita negli eccessi nei fatti straordinari nei miracoli il senso del vivere è presente e vivo nella nostra relazione con dio e con gli altri dunque nell'amore perché non c'è adrenalina più forte che l'amore la parola che oggi ci regala il vangelo e serenità grazie a tutti